studiato e studio anche questa sì, studio questa storia delle guerre e soprattutto delle guerre sante perché sempre più con il passare del tempo sono preso in maniera bipolare dall'interesse per la saggezza e la follia nell'esperienza storica dell'umanità allora cosa succede? Naturalmente il mio cuore batte per la saggezza ma i libri che io scrivo si vendono molto di più quelli sulla follia e sulle guerre che non i libri dedicati alla saggezza e all'umanesimo per fortuna stasera invece parliamo del filone appunto della saggezza e non solo della saggezza ma adesso sto aprendo un altro filone di cui spero di dare qualche anticipazione il filone della creatività e infatti stasera vi vorrei intrattenere su questo argomento il rinascimento come esplosione di creatività e le radici spirituali del rinascimento come sintomo di una profonda religiosità in fase di ebollizione e in fase di ricerca di nuove frontiere nuovi orizzonti di espressione è assolutamente importante ribadire questo perché ancora al giorno d'oggi si sente dire che il rinascimento è stato un fenomeno anticristiano e irreligioso e addirittura il rinascimento sarebbe l'inizio di un processo che definiamo di secolarizzazione tuttora in atto e tuttora indiscernibile soprattutto poi nei suoi approdi addirittura qualcuno farebbe coincidere la modernità con questa secolarizzazione ecco io non la penso così ve lo dichiaro subito e al contrario ritengo che anche la modernità così come tutte le epoche della storia umana sia profondamente pervasa dal soffio dello spirito per tornare appunto all'oggetto delle nostre discussioni ma su questo devo continuare a imparare da Piero quindi ritengo di avere ancora molta strada da fare nel frattempo ho cercato di chiarire alcuni presupposti del rinascimento allora adesso io vi cercherò di spiegare perché il rinascimento è stato così prodigiosamente creativo e d'altronde perché è stato così unico nella storia dell'umanità perché in effetti il rinascimento italiano e qui aveva ragione il suo professore perché l'Italia è stata la culla del rinascimento noi non siamo né nazionalisti né sciovinisti nel dire questo anzi perché subito non appena noi diciamo il rinascimento è nato in Italia dovremmo subito chiarire che è un fenomeno che subito guarda oltre l'Italia e guarda veramente a una patria che è sovranazionale ma direi anche sovrastorica cioè guarda a quella che Thomas Mann chiamava la nobiltà di spirito è la patria degli uomini nobili di spirito degli uomini e delle donne e delle persone nobili di spirito che ha sempre bisogno di una collocazione e ecco che appunto gli artefici del rinascimento hanno pensato di dare un'espressione letteraria artistica, filosofica, creativa a questo bisogno di una patria pensando che la patria delle persone nobili è sempre in pericolo ci sono sempre forze negative che in qualche modo tendono a restringerla e se potessero a cancellarla ma per fortuna questa patria ha una storia che conosce delle rinascite ecco come viene fuori appunto l'idea forza, il rinascimento come idea forza e subito, e questo è l'aspetto veramente attraente del rinascimento a tutto questo si connette una ideazione estetica quindi una creatività artistica ma anche letteraria, anche poetica diciamo che la creatività quando esplode non conosce frontiere noi abbiamo più presente le arti figurative ma dovremmo veramente pensare a un'esplosione di creatività ad esempio per gli interessati alla storia della filosofia posso solo dire questo che la storia della filosofia come noi la, la filosofia come noi la intendiamo rinasce appunto in questo periodo non diversamente dal modo in cui rinascono le arti figurative ma cerchiamo di stare un po' alla radice di questo problema diciamo che il rinascimento è l'espressione di una spiritualità e questa spiritualità potremmo compendiarla potremmo riassumerla con il termine latino di renovatio cioè il rinnovamento rinnovamento la parola latina renovatio ha una lunga storia se noi avessimo interrogato un italiano, un fiorentino dell'epoca di Brunelleschi quando a Firenze si comincia a fare l'architettura ma anche la scultura e anche la pittura alla maniera degli antichi se avessimo chiesto a un fiorentino del 1420, 1430 o 1440 ma questa epoca in cui tu stai vivendo come la descriveresti? bene, questa persona non avrebbe usato il termine rinascita e nemmeno rinascimento infatti la parola rinascimento è una parola che nasce molto tardi compare solo nel XIX secolo nell'Ottocento la parola rinascimento è una parola di origine romantica sarebbe molto bello seguire la storia del termine rinascimento ma oggi non abbiamo il tempo di farlo mi interessa farvi capire che se un fiorentino o un italiano ma anche poi un francese perché il rinascimento è un fenomeno che subito passa alle Alpi ad esempio si diffonde quasi immediatamente in Francia e poi di lì in altri paesi europei se Costoro avessero dovuto descrivere il fenomeno che stavano vivendo cioè l'idea che c'era un salto di qualità si cominciavano a fare le cose in maniera diversa giudicata migliore sul modello antico appunto di quella che era stata la grandezza della civiltà greca e romana Costoro avrebbero usato il termine rinnovazio rinnovamento questo termine è un termine desunto dalla spiritualità biblica e in modo particolare dalla spiritualità profetica allora diciamo subito che la prima componente indispensabile del fenomeno rinascimento è un sostrato capite? è una tradizione culturale imbevuta di spirito profetico questo è il primo ingrediente ci sono molti ingredienti del rinascimento spero questa sera di poterne presentare i principali almeno il primo la prima componente è una visione una mentalità profetica secondo cui la storia conosce momenti di chiusura momenti di regressione ma è vocata a riaperture che sono irruzioni dello spirito ma lo spirito lo sappiamo tutti è anche e soprattutto creatività si manifesta come una creatività irrefrenabile se noi vogliamo porre la questione in termini estetici diciamo che ci sono periodi di imbruttimento a cui poi subentrano periodi in cui la bellezza torna prepotentemente protagonista gli artefici del rinascimento avrebbero parlato di imbarbarimento perché guardate erano tutti dei moralisti non molto diversi forse anche dalla nostra mentalità pensavano che il mondo presente fosse un mondo che stava andando verso la regressione morale era necessario rinfrescare anche e soprattutto in termini morali l'umanità attingendo alle grandi risorse spirituali che l'umanità si porta dietro e queste risorse per una civiltà cristiana come era appunto quella del 1300-1400 erano risorse prima di tutto spirituali e religiose ed erano per l'appunto attinte dal bagaglio del profetismo che è il primo punto ora questa diagnosi del rinascimento come fenomeno di rinnovamento fortemente intriso di profetismo è una diagnosi che risale a uno storico tedesco che ha scritto un volumetto a suo modo rivoluzionario all'incirca cento anni fa quindi da circa cento anni esiste una posizione storiografica ben precisa che cerca di connettere il fenomeno del rinascimento con il retroterra religioso culturale che è quello medievale dove il profetismo era molto molto forte basti pensare che nel medioevo abbiamo figure straordinarie di profeti che sono degli spiritualisti che leggono la storia in una chiave trinitaria e sto pensando a Gioacchino da Fiore e guardate che non è un caso Gioacchino da Fiore ha un'influenza enorme sulla civiltà medievale visibile e invisibile perché esiste anche un'influenza come dire nascosta indiretta ma vi basti pensare che il grande artefice della svolta culturale che impone il rinascimento Francesco Petrarca che non è soltanto un grandissimo poeta ma alla sua epoca è soprattutto un uomo di pensiero ed è un uomo religioso ed è un innovatore del pensiero e del discorso religioso tale lui si concepiva e menzioniamo volentieri Petrarca visto che poi la culla appunto della famiglia di Petrarca è a pochissimi chilometri da qui bene Petrarca uomo di spirito appunto uomo nobile di spirito avrebbe detto Thomas Mann si come dire vede come profeta nei confronti del proprio tempo ed è questo lo sanno bene gli studiosi di Petrarca fortemente influenzato anche dall'ambiente del suo tempo dove questi fermenti gioachimiti sono sono molto presenti la sua polemica ad esempio contro la chiesa la chiesa istituzionale la chiesa gerarchica ha appunto un taglio di tipo profetico Petrarca è un cristiano senza chiesa potremmo dire perché si trova a disagio con la chiesa dei suoi tempi aggiungiamo subito che molti uomini del rinascimento sono come lui dei cristiani a disagio con la chiesa e col cristianesimo nei propri tempi ora la radice appunto spirituale del rinascimento è importantissima per capire che la nozione di tempo storico che costoro avevano era quello di un processo che conosceva periodicamente delle chiusure almeno tendenziali ma poi delle riaperture delle svolte dei salti che andavano verso una acquisizione di una sempre maggiore ricchezza rispetto appunto all'immediato passato che invece era visto come un inaridimento un inaridimento arrivati a questo punto mettiamo subito in connessione questo termine latino renovatio con un altro termine latino assolutamente fondamentale per capire questo fenomeno l'altro termine latino è quello di reformatio la riforma rinascimento e riforma nascono è veramente un parto gemellare nascono dallo stesso alveo spirituale ed è una tradizione medievale che affonda le sue radici nell'antichità e in questo momento molto fecondo di costituzione di una nuova tradizione culturale che è il cristianesimo che però nasce a sua volta avendo alle spalle la tradizione classica infatti il modo più adeguato di parlare per queste cose è una tradizione classico cristiana a cui appartengono i padri della chiesa allora i padri della chiesa descrivono l'avvento del cristianesimo nella storia nei termini di renovazio ma anche di reformazio dell'umanità cosa vuol dire reformazio da cui appunto la parola riforma in italiano è un termine che è debitore della terminologia filosofica di Aristotele Aristotele lo sappiamo tutti è colui che appunto costituisce la realtà come sintesi di materia e forma e vede la forma come quel principio spirituale che è inerente a tutte le realtà diciamo di questo mondo e che rappresenta la perfezione la perfezione di una certa realtà storica ma Aristotele come tutti i greci e come anche il suo maestro Platone aveva un'idea piuttosto negativa del tempo e questo è un'eredità che appunto dalla cultura greca rimane anche in buona parte della tradizione poi classico cristiana dell'occidente cioè l'idea che con lo scorrere del tempo si perda qualcosa cioè si perda lo splendore la perfezione della forma originaria allora il tempo è causa di deformazione guardate deformazio ma allora che cosa farà diciamo la persona che è attenta invece a far andare le cose per il verso migliore farà una reformazio cioè cercherà di imprimere tutto lo splendore della forma originaria a quel qualcosa che è andato a quella realtà che ha perduto appunto questo a causa dello scorrere del tempo poi ci si mettono anche le colpe degli uomini e a maggior ragione una certa realtà si degrada e si deforma allora guardate che con questo schema si legge anche la storia della chiesa e non a caso appunto la riforma protestante di cui l'anno prossimo celebreremo i 500 anni si concepisce come un'azione appunto di restituzione di una forma originaria ma guardate che i riformatori non facevano altro che ripetere un paradigma che nella storia della chiesa medievale è comparso molte molte volte ad esempio è comparso in tutta la storia dei principali ordini religiosi i monaci i frati le suore gli ordini sono tutti andati incontro a un processo di decadenza appunto noi descriviamo così che corrisponde appunto alla deformazio cioè la perdita della perfezione originaria allora poi arrivano i riformatori che sono coloro che riportano l'ordine religioso a quella condizione di splendore originario non è un caso che il rinascimento sia un'epoca straordinaria di riforma degli ordini religiosi se noi andiamo a visitare a Firenze il meraviglioso convento di San Marco con gli affreschi di Beato Angelico quello è il frutto di una reformazio dell'ordine domenicano l'ordine domenicano ha il vanto di essere stato il primo ordine religioso ad avere sperimentato una riforma al suo interno che fra l'altro è stata una riforma pacifica altri ordini religiosi sull'onda di questa riforma domenicana hanno tentato la riforma si chiama il movimento dell'osservanza il più importante è il movimento dell'osservanza francescana ma il movimento dell'osservanza francescana è un fenomeno traumatico porta lacerazioni discordia rotture strappi e alla fine la costituzione di un nuovo ordine sapete che si si forma proprio agli inizi del Cinquecento anzi esattamente in quello stesso anno 1517 che è l'anno anche dell'inizio della riforma luterana con le 95 tesi pensate che strana sincronia bene tutto questo fa parte del rinascimento è l'aspetto traumatico della creatività che non è un fenomeno solamente come dire promotore appunto di realizzazioni stupende ma può essere anche talora come dire un fenomeno dirompente allora la riformazio torno a ripetere è un modo che appunto è debitore di questo paradigma addirittura metafisico aristotelico con cui si concepisce all'epoca l'idea di un miglioramento nella storia attenzione non esiste non è ancora era stato minimamente concepito il progresso il mito del progresso non esiste in questo contesto storico il progresso come mito e come paradigma di lettura della storia nasce solo nel 1700 con l'illuminismo fino a quest'epoca il progresso come noi lo intendiamo cioè il miglioramento delle condizioni dell'umanità di qualsiasi situazione si concepisce come un regresso cioè come un ritorno alla perfezione originaria questo bisogna capirlo quindi anche quando si parla di rinascimento si parla di un riproporsi di un qualcosa di antico in questo paradigma di perfezione antica appunto sta il modello quindi la perfezione non sta davanti a noi progresso ma sta alle nostre spalle questa è un'idea che come dire appartiene a tutte le grandi civiltà della storia umana e si può dire che in effetti l'occidente l'occidente europeo è stata forse la prima cultura che ha veramente come dire liquidato questo paradigma che aveva millenni e millenni di storia per adottare appunto il paradigma del progresso il quale come tutti sappiamo oggigiorno è in crisi per cui da un certo punto di vista ci risulta più comprensibile quest'altro paradigma che è rintracciabile in tutte le grandi culture in tutte o quasi le grandi culture dell'umanità a cui noi dobbiamo ad esempio i miti di fondazione in tutte le grandi culture a cui dobbiamo il rito come ripetizione di un qualcosa di perfetto che sta in un tempo ancestrale e che viene riattualizzato tutte cose che anche il cristianesimo occidentale conosceva e che sono state poi pian piano distrutte demolite messe da parte a partire appunto dal 1700 ma attenzione appunto perché il rinascimento invece è questo è un ritorno a una perfezione originaria e così arriviamo a un altro elemento spero di farvi capire che le componenti sono veramente diverse e sono anche appartenenti a contesti storico-culturali diversi quindi non tutto viene come dire dallo stesso campo qualcosa viene dalla Bibbia appunto dal patrimonio biblico-ebraico-cristiano ma altre componenti vengono invece dalla cultura pre-cristiana dalla cultura greco-latina ad esempio dalla cultura greca e poi latina viene un mito che è fortemente legato a questa idea della perfezione alle spalle che è il mito dell'età dell'oro il mito dell'età dell'oro che è un altro mito che concorre poi alla formazione del rinascimento e anche come dire dell'immaginario e come dire iconico a cui è legato appunto il concetto di rinascimento allora il mito dell'età dell'oro è anch'esso un'espressione appunto di questa nostalgia delle origini probabilmente la cultura mediterranea lo assorbe dal Medio Oriente che sembra essere il bacino di formazione fra il Medio Oriente e addirittura l'India abbiamo appunto come dire tracce di questa visione secondo cui ci sarebbe stata alle origini un'umanità perfetta poi l'umanità pian piano è decaduta anche fisicamente gli uomini delle origini erano tutti belli perfetti sani molto morali c'era una sanità del corpo ma anche una sanità del cuore e della mente poi pian piano l'umanità si è degradata fino a diventare l'umanità che abbiamo sotto gli occhi secondo appunto questo paradigma e tutto questo veniva descritto in termini metaforici come il passaggio da un metallo sempre meno nobile quindi da un'età dell'oro iniziale si passa a un'età dell'argento poi del bronzo poi l'età del ferro che sarebbe appunto l'età attuale nella cultura dell'occidente il primo documento importantissimo di questo mito è il poema di Esiodo Esiodo le opere e i giorni quindi Esiodo che è appena dopo Omero diciamo la costituzione di questi testi quindi è molto antico appartiene alla civiltà greca arcaica testimonia già di questa visione è una visione pessimista è una visione pessimista perché si ritiene che l'umanità vada sempre peggio stia decadendo sempre più da tutti i punti di vista così la pensava Esiodo ora il mito dell'età dell'oro resta è una storia lunghissima noi lo ricordiamo qui perché viene usato da Virgilio che è il massimo poeta e letterato dell'età di Augusto cioè la fondazione dell'impero romano Virgilio usa il mito dell'età dell'oro per esaltare il proprio tempo che è il tempo appunto in cui Augusto fonda trasforma la repubblica romana in impero in principato allora dice appunto Virgilio questo tempo è l'imminenza di una nuova età dell'oro e addirittura è il ritorno di un tempo perfetto questa idea si connette non solo all'idea che esiste una lontana perfezione alle spalle ma che esista anche un tempo del mondo un anno cosmico come veniva chiamato che periodicamente come dire girando portava a come dire un rinnovamento appunto di quella che era l'ora iniziale l'ora di partenza l'ora zero della storia della storia del mondo l'orologio cosmico gli antichi in particolar modo appunto Virgilio il quale a sua volta assorbiva queste credenze dalla cultura greca e noi troviamo rispecchiata questa credenza nel timeo di Platone nel dialogo appunto cosmologico di Platone gli antichi pensavano che l'anno cosmico si componesse di 6.000 anni quindi ogni 6.000 anni il mondo si rinnovava e tornava al punto di partenza il quale punto di partenza era il momento perfetto secondo Virgilio che chiaramente fa un discorso propagandistico celebrativo del suo tempo il suo tempo era l'imminenza di questo anno numero 6.000 che avrebbe dovuto far ripartire la storia dell'umanità perché ci interessa qui Virgilio ma perché come molti di voi sapranno Virgilio viene assunto dalla tradizione cristiana e i padri della chiesa non tutti ma diversi lo considerano un profeta pensano che Virgilio sia un profeta pagano che ha avuto un'illuminazione soprannaturale malgrado non fosse cristiano e in quell'ora zero in quell'inizio nuovo inizio della storia dell'umanità secondo questa interpretazione Virgilio ha cantato la nascita di Gesù Cristo perché è avvenuta in effetti proprio ai suoi tempi e sotto Augusto allora questa che in latino si chiama pia interpretatio la pia interpretazione di Virgilio rappresenterebbe una premonizione che era talmente forte e qui era un'irruzione appunto dello spirito nella storia al momento dell'incarnazione Virgilio ha avuto questa premonizione attenzione non è l'unico perché alla stessa epoca ci fu una sibilla che profetò le sibille erano profetesse pagane allora questa questa pia interpretatio comprende non soltanto Virgilio ma anche la saggezza oracolare dell'antichità e in particolare le donne le donne profetesse perché io vi racconto tutte queste cose ma perché vi anticipo così poi spero di alleggerire anche un po' il seguito del discorso vi anticipo che alla fine della mia chiacchierata vi inviterò a unirmi a me perché vi porterò in giro per Firenze chi vorrà andiamo a fare una bella visita turistico spirituale per Firenze e vi porto a vedere le sibille così capirete che cos'è il concetto rinascimentale di Sibilla ma non vi anticipo altro poi fisseremo una data un bel giorno andiamo a fare un bel giro per Firenze Firenze come non l'avete mai vista con gli occhi della religione allora potrei già finire qui invece no vi stanco ulteriormente allora quindi attenzione a questo punto quindi c'è questa idea della rinnovazio che diventa reformazio mundi perché i padri della chiesa dicono questo con Gesù con l'avento di Gesù l'umanità è stata riformata cioè è stata portata a quel livello di perfezione che era nella mente di Dio era nella mente di Dio quindi questa è la riformazio mundi secondo appunto l'interpretazione di alcuni padri della chiesa ora avrete notato fin qui che c'è nella prospettiva dei cristiani e dei protagonisti del rinascimento che sono vissuti fra 1300 1400 1500 c'è una contaminazione fra due visioni della storia una visione quella profetica presa dalla Bibbia secondo cui la storia ha una direzione e un cammino lineare o una parabola se volete che comunque parte da un certo punto e va secondo diciamo una certa traiettoria verso una destinazione che sarebbe poi la fine della storia l'Apocalisse c'è però l'avete appena sentito anche quest'altra nozione secondo cui la storia invece procede per cicli procede per cicli per cui ci sono momenti di ascesa e poi ci sono momenti di decadenza si tocca il fondo e poi però si risale e si arriverà al culmine ora questa concezione ciclica se ci pensate bene è proprio all'origine della stessa parola della stessa concezione di rinascimento che sarebbe appunto una rinascita dopo un periodo di morte o letargo quantomeno bene voi direte ma sono due nozioni di tempo opposte e inconciliabili bene io vi rispondo che invece queste due nozioni di tempo sono state conciliate nella tradizione classico cristiana e in modo particolare nel medioevo e ancor più nel rinascimento esiste una visione della storia umana che procede per cicli senza escludere però il cammino il cammino diciamo così globalmente direzionato verso poi un approdo che sarà appunto la fine dei tempi e il giudizio la sintesi fra queste due visioni è uno dei grandi prodigi intellettuali operati proprio dalla patristica dai padri della chiesa che hanno saputo conservare il più e il meglio della tradizione greco-romana tendenzialmente senza escludere niente di tutto ciò che fosse significativo per l'uomo anche se questo comportò delle forzature comportò dei disagi e non solo dal punto di vista intellettuale ma questa è veramente la grandezza di questi straordinari pensatori che hanno saputo tramandare hanno fatto da ponte appunto fra un mondo un'epoca e un'altra e veramente più si indagano questi problemi e più aumenta l'ammirazione verso la grandezza di questi personaggi allora legata alla concezione ciclica del tempo c'è una nozione che adesso cercherò di spiegare molto brevemente che è proprio anch'essa una delle componenti fondamentali del mito e dell'idea forza di rinascimento possiamo definirla la metafora botanica cioè l'idea che la realtà umana possiede dei cicli appunto di fioritura e poi progressivamente invece di perdita e come dire di decrescita esattamente come fa il mondo vegetale e appunto in modo particolare gli alberi le piante i fiori la metafora botanica quella che veramente ci consente tuttora di parlare del rinascimento come rifioritura allora attenzione perché questa concezione di rifioritura ovvero in latino reflorescenzia non è un termine recente è un termine che noi troviamo già in uso nel medioevo già nel medioevo diversi autori e guardate che stiamo parlando di monaci quindi di asceti quindi non di persone che si dedicano alle gioie e ai piaceri della vita ma persone molto rigorose persone austere persone che facevano una vita di penitenza ma che non erano cieche davanti allo straordinario fenomeno della creatività umana appunto la creatività umana che già nel medioevo diversi di loro tendono a descrivere nei termini di fioritura sboccio bene anche questa è una metafora di lunghissima vita e di lunghissima durata è una metafora che nasce anch'essa in un ambito pre cristiano perché nasce appunto in un ambito più precisamente latino sono per l'appunto gli autori latini che sono molto esperti sapete esisteva proprio un genere letterario nella letteratura latina de re rustica cioè si studiava l'agricoltura e l'agronomia e si come dire si studiava questo fenomeno prodigioso appunto della vita biologica che nel caso appunto del mondo vegetale della fitosfera procede appunto a cicli alterni secondo le stagioni secondo le stagioni e anche nel mondo animale noi troviamo un rispecchiamento pensando al fenomeno del letargo allora si ragionava così tutte le cose viventi hanno dei periodi di letargo e dei periodi di risveglio allora vedete come questo paradigma si concilia molto bene con quell'altro del ciclo appunto delle nascite rinascite decadenze e riprese allora questi questo modo di descrivere il mondo umano e addirittura il mondo della creatività quindi il mondo della cultura è assorbito dalla tradizione cristiana nell'arco del medioevo e ripeto ci sono già autori penso ad esempio a San Pier Damiani che appunto è un straordinario personaggio che è vissuto nel periodo della riforma gregoriana ha contribuito a come dire rafforzare le strutture della chiesa era un monaco camaldolese ma era anche un uomo di cultura che quindi appunto non aveva preclusioni da questo punto di vista era in grado di entusiasmarsi davanti a questo e diceva ai nostri tempi noi stiamo assistendo appunto a una ripresa cioè a una rifioritura dei saperi cosa di cui lui era molto orgoglioso vedete la chiesa appunto di quest'epoca è una chiesa che promuove la cultura guardate che è da questo momento in poi che nasce lo straordinario fenomeno dell'università di cui noi siamo eredi noi tutti qui siamo debitori di un'istituzione che è l'università che ha la sua premessa proprio in questo contesto culturale di cui vi sto parlando quando dalle scuole cattedrali si passa l'idea di istituti di alta formazione quindi è una storia dentro cui noi continuiamo a esistere una volta uno studioso ha fatto il calcolo di quante realtà che esistevano nell'anno 1000 continuano a essere esistenti al giorno d'oggi sono poche decine sono poche decine fra queste poche decine c'è l'università c'è l'università che è frutto di questa reflorescenzia avrebbe detto con compiacimento San Pier Damiani che ai nostri tempi cioè i tempi di San Pier Damiani promuovevano le gerarchie ecclesiastiche questo va detto ancora una volta per mettere in connessione il fenomeno della religiosità il fenomeno della creatività e quindi poi della produzione della produzione di cultura allora tutto questo offre come dire un repertorio straordinario di immagini che poi sono all'origine proprio del mito del rinascimento perché quando gli uomini del 400 del 500 descrivono come dire ciò che hanno sotto gli occhi parlano cominciano a parlare appunto di una renovazio di uffarsi nuove delle cose antiche vedete che ci sono anche delle parafrasi segno che la cosa sta maturando ma non ha trovato ancora una adeguata espressione terminologica perfino un personaggio come Machiavelli è strano se volete ha una mentalità religiosa però certamente imbevuto anche lui di questa prospettiva di questo modo di guardare la realtà diceva appunto che ai suoi tempi l'Italia stava assistendo a un farsi nuove delle cose delle cose antiche e diceva proprio Machiavelli l'Italia è proprio vocata a questo sempre per ribadire appunto il fatto che res italica est ma diciamo subito che alle spalle di Machiavelli e di tutti questi intellettuali che ragionavano così c'è una straordinaria componente e questa è l'ultima su cui mi soffermo così spero di non avervi stancato troppo ma questa è l'ultima delle grandi fondamentali componenti di questa idea forza di rinascimento che ripeto è una sintesi di apporti molto eterogenei fra di loro per provenienza per epoca anche di formazione ma questa dobbiamo assolutamente menzionarla ed era questo in realtà a cui pensava Machiavelli è l'idea che la grandezza di Roma come civiltà fosse una grandezza imperitura e capace di rinascita il mito della Roma eterna che è quindi il mito di una cultura romana che è in grado di attraversare periodi di crisi ma poi conoscerà anche momenti di rinascita il mito di Roma questo è uno dei grandi ingredienti del rinascimento senza di questo mito noi non riusciamo a capire molti aspetti del rinascimento per come poi si è anche prodotto perché se poi venete con me come spero in giro per Firenze io vi farò vedere tanti dettagli anche artistici che sono delle consapevoli ripetizioni di elementi dell'arte romana allora per gli artisti del rinascimento riprodurre alla perfezione un capitello romano era un progresso anche se in realtà era un regresso perché significava riattualizzare una cosa antica non si inventava niente di nuovo si ripeteva la perfezione del passato in teoria questa è una ripetizione e quindi voi direte vabbè ma che allora qui che fenomeno piatto no la cosa straordinaria è che la creatività nasce dall'imitazione e questo è un fenomeno ricorrente nella storia umana fino ad oggi il vero grande laboratorio della creatività anche se uno non lo direbbe è la imitazione si imita per diventare poi se stessi e originali e questo è ciò che avvenne e ciò che avvenne appunto in questo straordinario laboratorio che è la Firenze appunto del 400 vi mostrerò qualche dettaglio allora senza questa idea non si capisce appunto il rinascimento per come si propose allora il mito di Roma come mito di una rinnovazio allora guardate che questo è un altro capitolo straordinario della nostra storia culturale Roma costituì un impero che intendeva essere una a sua volta ripetizione del grande impero di Alessandro Magno Alessandro Magno fu il primo artefice di un impero ecumenico cioè un impero che doveva tenere presenti con presenti tanti popoli tante tradizioni e attenzione tante religioni diverse tutte però in qualche modo familiarizzate fra loro attraverso un'operazione di tipo culturale per l'appunto quindi non solo ma anche secondo un principio forte di giustizia di giustizia cioè l'impero di Alessandro Magno è il primo esempio diciamo importante nella storia di universalismo e anche di cosmopolitismo l'idea di cosmopoli cioè parola greca che vuol dire città mondo il mondo come una città questa idea di cosmopoli è un prodotto della filosofia stoica la filosofia stoica è una scuola socratica quindi è nata nell'Atene dopo Socrate ed è anch'essa diciamo così un tentativo di pensare il mondo in termini razionali e unitari allora l'impero di Alessandro Magno fu il grande modello a cui guardarono tutti i grandi imperi multinazionali sorti poi successivamente fra Europa e Asia ci tengo a dire anche perché so che c'è una presenza musulmana forse in questo pubblico che ecco califale l'impero dei califi fu anch'esso una ripetizione ideale dell'impero di Alessandro Magno uno dei primi successori appunto uno dei primi califi si cominciò a guardare appunto a questo grande modello rappresentato appunto da Alessandro Magno quando poi i turchi si affacciarono sulla scena e in modo particolare gli ottomani ma già i selgiuchidi anche costoro si riproposero di riprodurre un impero di questo tipo cioè questo modello l'impero di Alessandro Magno come impero ecumenico è un modello che è attivo tanto nella tradizione cristiana quanto nella tradizione islamica bene questa idea appunto che si potesse creare un ordine sovranazionale fondato sulla giustizia per Roma era connesso all'idea di eternità quindi gli artefici dell'impero romano cominciarono a elaborare il mito della Roma eterna Roma sarebbe durata sempre perché aveva realizzato un impero che rappresentava appunto la perfezione da questo punto di vista ideale ora successe che l'impero romano come tutti sappiamo non durò e cominciò a soffrire dei colpi di queste migrazioni di popoli che in una certa tradizione vengono descritte come invasioni barbariche effettivamente Roma cominciò a subire colpi e anche diminuzioni diminuzio imperi in latino si chiamava perdita di province questo divenne un fenomeno drammatico ma allora attenzione la storia del tardo impero romano è una storia di perdite ma anche di riconquiste i letterati agli intellettuali dell'epoca cominciarono a sviluppare questa idea secondo cui Roma era capace di subire delle crisi ma poi di avere delle rinascite dei recuperi un grande personaggio che appartiene all'epoca di Teodosio Teodosio è appunto il grande restauratore uno dei grandi restauratori dell'impero romano dopo una disfatta mortale come era stata la sconfitta di Adrianopoli un intellettuale appunto del formatos in epoca teodosiana che si chiamava Rutilio Namaziano un poeta e funzionario è autore di un bellissimo verso che adesso io cercherò di ripetervi e di spiegarvi è alla base proprio di questa idea di rinascita dell'impero romano dice Rutilio Namaziano noi abbiamo assistito ai nostri tempi al disastro di Roma Rutilio Namaziano fra l'altro come dire fu non direttamente ma testimone del sacco di Roma del 410 però disse c'è una capacità di recupero che è intrinseca appunto all'impero romano in quanto è una realtà assolutamente come dire fuori dall'ordinario e il verso in questione dice questo la capacità di rinascere sta nel trasformare i mali e le sventure in fattori di crescita ordo rinascendi est crescere posse malis crescere malis nutrirsi appunto dei mali convertendoli in fattori di crescita ordo rinascendi noi potremmo tradurla come predisposizione appunto a rinascere di lì in avanti sorge e si consolida il mito della Roma capace di rinascere anche quando poi Roma sparisce ma l'attesa di una rinascita di Roma e della grandezza di Roma si trasferisce dal piano politico al piano culturale allora tutto il medioevo sarà una storia di rinascite e di ricomparse dell'eredità culturale di Roma sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista artistico ci sono appunto fenomeni di rinascenze medievali che sono delle riproposte di moduli appunto e stilemi dell'arte classica ma anche dal punto di vista ideologico tutta la storia del medioevo è costellata di ricomparse del mito ad esempio dell'impero romano che viene fatto rinascere di volta in volta pensiamo da Carlo Magno pensiamo dagli ottoni poi dai sali e poi dagli svevi della casa appunto di Ohenstaufen e così via ogni volta appunto c'è questa idea della rinascita bene sono arrivato al termine di questa mia esposizione cosa vi voglio dire che vedete il rinascimento si nutre di un concorso di forze non è dovuta a una causa sola primo punto secondo punto c'è un retaggio di tipo cristiano e biblico ma c'è un retaggio pre cristiano possiamo pure definirlo pagano se volete che è molto molto forte e che la civiltà cristiana si portava dietro perché non l'aveva mai distrutto non l'aveva mai rinnegato e questo è un grandissimo merito in non avere mai ceduto come dire alla tentazione dell'oscurantismo come dire dell'esclusivismo questo è come dire una straordinaria appunto operazione che risale appunto alla tarda antichità ecco da tutto questo noi possiamo vedere proviene una forza creativa che mette in condizione l'umanità di ripensarsi e di ripartire dopo un momento di crisi perché il rinascimento nato in Italia e in modo particolare a Firenze nei primissimi decenni del 1400 bisogna saperlo che nasce da un momento di crisi nera di crisi nera l'Europa usciva dal grande scisma d'Occidente cioè la fine e la catastrofe della Chiesa medievale che è stata distrutta da questo cataclisma che ha avuto luogo fra il 1378 e il 1417 allora era necessario per l'umanità di quei tempi e specialmente per le coscienze più sensibili ripartire ripensarsi avendo una serie di punti di riferimento solidi ma avendo allo stesso tempo anche l'energia per slanciarsi fuori da questo mondo ristagnante che giustamente veniva interpretato come letargo e per alcuni aspetti lo era era anche peggio quindi alla fine e adesso davvero vi concludo scusandomi se sono stato troppo lungo il rinascimento è lo sprigionamento di un'energia creativa in cui il fattore religioso non solo non è assente ma capite bene è il motore è il motore come dire recondito un po' di tutta l'operazione vi ringrazio come hai visto si dice non volava una mosca non quella mosca la capitale della della russia ma e questo dice la come dire la tua capacità di comunicazione la tua penetrazione del di questa complessissima affascinante materia ma la capacità di comunicarla di leggerla di penetrarla di offrire spunti eccetera vedo che vedi i volti come sono soddisfatti no? perché e penso che questo ha diciamo ha offerto tanti stimoli positivi non solamente a chi diciamo così per mestiere in qualche modo per vocazione diciamo lavora su questioni culturali eccetera ma tutti noi vedi quella signora lì in terza fila no no sei tu 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 lei sì sì lei è la mia gioia più grande per Sofia di Sofia perché lei è una delle prime con suo marito Zaccaria che sono venuti qui allo piano quanti anni fa siete venuti? 49 49 anni quasi 50 quando proprio è iniziata questa realtà e lei mi ha confessato perché tutte le cose che fa l'università lei è sempre presente e poi spesse volte mi manda dei feedback con il marito cioè mi scrive due righe eccetera oppure me lo dice e perché e io dico ma come ero interessato ma come mai ma io come dire il mio desiderio è sempre stato era sempre stato quello di frequentare l'università per entrare nella sapienza per entrare per conoscere l'umanità ma non ho potuto ho fatto proprio solo le scuole primarie poi eccetera poi sono stata chiamata qui da Chiara che è la fondatrice qui quando è nata questa realtà per dare e sono venuta qui l'evangelico cento lo sai chi lascia trova cento volte tanto che cosa è stata che è nata all'università qui e quindi dice io mi sento e lei dice l'altra sera abbiamo una cosa e dice eravamo invitati a mangiare una pizza ma io ho detto mio marito vai tu io non posso vado a sentire la conferenza poi ti racconto cioè partecipa a tutte le cose e sei stata contenta anche stasera ecco ecco questo per me è la cultura questa è la cultura cioè quella che sa mettere insieme l'approfondimento più rigoroso perché dietro questo voi capite ci è stato trasmesso così in maniera così diretta e limpida e trasparente ma c'è uno scavo c'è una ricchezza che si è mostrata attraverso la padronanza di tutta una serie di realtà ma mettere insieme questo con appunto il sapore della quotidianità della costruzione di una vita che respira di questa perché questo è cultura non è affare di testa così e appunto il non oscurantismo vuol dire proprio questo la capacità di interrogarsi di accogliere e di aprire continuamente orizzonti quindi io penso proprio ringraziamo tantissimo Marco perché il professor Pellegrini perché ci ha ci ha fatto gustare questa questa cosa qua no? penso e adesso c'è un attimo un momento di pausa penso o sbaglio Giorgia c'è un pezzo musicale suonato da maestro Sandro Crippa dal titolo tema e variazioni in Do e dopo ci sarà lo spazio per qualche domanda benissimo abbiamo una mezz'oretta così va bene va bene grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti.